NOTAZIONE MUSICALE Questa è la seconda parte delle nostre lezioni di teoria musicale. Possiamo vedere una grande evoluzione nel corso dei secoli nella storia della notazione musicale. Il cambio della modalità di notazione avvenne perché all'inizio serviva da semplice riferimento affinché i cantanti non si perdessero nei brani eseguiti. Negli anni la composizione musicale divenne così precisa che fu necessario modificare ed elevare la scrittura musicale a un livello sempre crescente, cercando un modo per descrivere a pieno tutte le note, le dinamiche e le espressioni desiderate dai compositori. Le composizioni erano dirette e impersonali, senza libertà di includere suggestioni emotive nei testi e chiamavasi NEUMA. Era uno dei sistemi usati per rappresentare la notazione musicale. Fondamentalmente serviva a mostrare quando il movimento musicale delle note erano ascendente o discendente. Le note. Se non c'è chiave all'inizio del pentagramma, le note saranno semplici sfere ovali. Non avranno né nomi né altezze. Affinché le note ricevano nomi specifici, avremo bisogno di un altro simbolo che chiamiamo chiave. Le chiavi. Il termine clave è derivato dal latino clavis, che significa chiave. Le chiavi servono ad indicare al musicista come leggere il rigo. Cioè la chiave serve a dare il nome e l'altezza della nota. Sono scritti all'inizio del pentagramma. Poiché la notazione musicale è relativa. Ogni nota può occupare qualsiasi linea o spazio sul rigo. Queste sono tre chiavi che conosciamo. La chiave di violino, la chiave di basso o chiave di fa e la chiave di do o mesoclave. La chiave di do, anche, è chiamata di mesoclave. Originariamente la chiave di do fu creata per rappresentare le voci umane. L'endecagramma. Nella scrittura musicale antica, tre chiavi erano usate con la fusione di tre sistemi musicali in quello che chiamavamo indecagramma. Quindi il sistema centrale dove si usava la chiave di do non viene più utilizzato. Nell'attuale sistema musicale usiamo solo due sistemi chiamati pentagrammi. Mentre la chiave di violino dirige le voci femminili, la chiave di fa dirige le voci maschili. Chiave di violino. A chiave di violino o chiave di sol è originata dalla lettera maiuscola G. Attualmente utilizzata sulla seconda linea del pentagramma. Chiave di basso. La chiave di basso viene utilizzata per rappresentare le note più basse. È originata dalla lettera maiuscola F. Il simbolo è normalmente tracciato dalla quarta linea e indica che la nota F si trova su questa linea. Si noti che questa nota è tra i due punti della figura. Sapendo questo possiamo scrivere le altre note. Bisogna sempre ricordare che in chiave di basso le note equivalgono a due toni avanti rispetto a quelle in chiave di violino. Così abbiamo imparato a leggere le note in chiave di violino e poi in chiave di basso. Vediamo. La nota che scriviamo nella chiave di sol. La nota sol scriviamo nella seconda linea. Però nella seconda linea della chiave di fa dobbiamo ricordare che il nome è equivalente al nome di due noti avanti della nota di sol, che è la nota si. Lo stesso succede con la nota re nella chiave di sol, che è scritta sulla linea quarta. Però nella quarta linea della chiave di fa scriviamo la nota fa. Grazie. Grazie.